In un mondo di apparenza e sovraesposizione è sempre più difficile capire quello che ci attrae veramente da quello che ci viene detto ci debba attrarre. Per me conoscenza e passione è sexy. In questo podcast parlo con le persone che trovo attraenti per i più svariati motivi. Queste sono chiacchiere che mi eccitano e spero eccitino pure voi. Io sono Nick Cerioni e questo è Is It Sexy. Benvenuti a una nuova puntata di Is It Sexy. Oggi io non ho parole per descrivere il ospite che è qui. Non ci sono parole adatte per dire quanto lei sia la più grande rock star del nostro paese. Signore e signori, lo annuncio proprio seriamente. Orietta Verti! Eccomi qua! Ciao Nick! Io non ho parole, Orietta. Il mio più grande amico. Esatto. Insieme a Leandro. Esatto, mio marito Leandro. Ma questo è un onore incredibile averti qua perché tu, non so come dire, tu vai oltre tutti i confini di definizioni. Cioè non esiste uno storico italiano di un artista come te che ha attraversato quasi 60 anni di carriera. Sì. Questo va detto. Precisamente quanti sono? Sì, 60? Quest'altro anno sì, sono 60 anni. 60 anni. Sei decadi di it. Cioè non è che proprio capita tutti i giorni di avere una leggenda come te. A noi capita un po' più spesso perché siamo amici ed è meraviglioso. Ma poi tu sei un meccolo operatore di lavoro. È vero, è vero. Se non avessi avuto le tue idee. Ma figurati. Eh sì. Troppe cose dobbiamo fare ancora. Ancora sì. Eh sì. Ma quanti anni è che ci conosciamo? Secondo me... Io penso che sono dieci anni. Probabile. Probabile, sì. Probabile, una decina d'anni perché raccontiamolo. Noi abbiamo un amico in comune che si chiama Gian Paolo Guerra che noi salutiamo, che è un carissimo amico, è un grande collezionista, è forse un'enciclopedia vivente di pop italiano. Lui sa tutto, ha tutto e sapevo che era tuo amico, perché voi vi eravate conosciuti tanti anni fa, e io e Leandro volevamo fare un tuo video. Perché tu non avevi mai fatto un videoclip. Mai un video in vita mia. Cioè, incredibile. Il primo video l'ho fatto con voi. Esatto. E noi volevamo fare questo video e abbiamo detto ma non ci puoi presentare Orietta? E lui l'ha fatto. E poi siamo diventati amici. Quindi ci siamo fatti, mi ricordo, un pranzo di quasi Ferragosto a casa nostra nelle Marche. Bellissimo, ragazzi. E abbiamo fatto tantissimi video. Esatto, ne abbiamo fatti tanti. Adesso il mio concerto, prendi il nome del cofanetto, La mia vita è un film, perché ogni canzone c'è un video. La maggior parte sono vostri, alcuni sono fatti con delle foto, messi in film e così. Poi hai fatto anche qualcuno animato, poi, di quelle delle canzoni nuove. Bellissimo, Orietta è un mito. E quindi voi siete sempre stati presenti da dieci anni nel mio lavoro. Quindi siete i collaboratori più vicini. E poi i tuoi consigli per gli abiti. Esatto. Perché non dobbiamo dimenticare che il mondo dello spettacolo va a ripasso con la moda, no? Mi ricordo che quando siamo andati a Sanremo, che tu hai fatto fare gli abiti a Calza. Sì, Giuliano Calza di GCDS. Il manager mio, Pasquale Mammaro, e il maestro non avevano ancora visto gli abiti. Esatto. Quando li ho chiamati su in camera per farli rivedere, hanno detto, no, ma mettiti la roba che c'hai da giorno. Perché questi qua sono troppo vistosi. Ma come fa la gente a vederti con tutte quelle paillettes? Le conchiglie. Le conchiglie, con tutte quelle collane, quegli orecchini, no? Avevo persino... I tirapugni? Sì. Con scrittorietta. Con scrittorietta. Ragazzi, adesso dobbiamo raccontarla poi la genesi di tutta questa cosa. Però, con l'insistenza di mio figlio Otis... Che è qua con noi, salutiamo, che è un mito. Sì, che me li ha fatti mettere ed è stato un grande successo, devi ammetterlo. Lo è stato, lo è stato. Perché nella mia mente c'era anche questo. Tu mi hai detto, non ti vesto di chiffon perché dopo sembra una sciura. Ecco, è meglio vestirti di paillettes. E io ho pensato, sì, perché le paillettes mi danno un tono di cartone animato. E il cartone animato non ha età. Vero? È una bellissima riflessione. Ecco. Ma, Orietta, ormai dispensa ormai perle. Me ne dico un paio. Allora, appena è entrata ha detto, appena finita, questa cosa voglio un gin tonic. Col gin della regina Elisabetta, quindi già iconica. Poi mi ha detto, sei tornato Moro. Io ho detto, però forse mi vedevo più giovane e biondo. E lei mi ha detto, no, ti vedevi più moderno. Sì. È che è una riflessione pazzesca. È vero, hai ragione. Quindi, niente, adesso dispensi solo grandi consigli. Io vorrei un po' ripercorrere un po' tutto. Poi parliamo anche di Sanremo. Anche per far capire, perché questa piattaforma è vista da tantissimi ragazzi giovanissimi generazione Z, che ovviamente sanno chi sei, ovviamente ti adorano, perché poi tu sei adoratissima dai giovani. Ma forse non tutti sanno che tu hai passato dei momenti rivoluzionari della storia italiana e della storia della cultura pop italiana. Tu, come dicevamo prima, hai iniziato a fare questo lavoro quasi 60 anni fa. Sì. 60 anni fa vuol dire che hai iniziato negli anni 60. Oggi siamo nel 2024. Esattamente, nel 64 io ho inciso, ho fatto i provini, delle canzoni di Suor Sorriso. Certo. Ed erano canzoni religiose. Sì. Di questa prima cantautrice mondiale. Che era una suora. È una suora belga. Ma erano bellissime, specialmente i testi. Erano scritti in inglese e in francese. Che è Dominique, no? La canzone che tu hai inciso. Dominique, sì, perché l'ordine suo religioso era San Domenico. Sì. E quindi ha dedicato questa prima canzone. Ma erano tutte belle, perché erano proprio preghiere cantate, rivolte a Gesù, a Dio. E ci voleva la traduzione in italiano, perché allora devi pensare 60 anni fa, mica tutti sapevano l'inglese e il francese, no? Certo. E anche oggi. E quindi queste canzoni le ho realizzate, erano 14, ed erano state vendute nei negozi del Vaticano. Ah, ok. Solo nei negozi del Vaticano. Ed erano anche Edizione Paolini, che è sempre del Vaticano. Però io non volevo farle queste canzoni, perché mi etichettavano come una sorina. Ok, certo. E io invece volevo cantare le canzoni d'amore, le canzoni ironiche, le canzoni attuali di allora, no? Certo. Allora la Casa Discografica, che era una multinazionale, mi fece questa proposta. Ti mandiamo al disco per l'estate con una canzone d'amore, però tu in primavera fai tutte le canzoni sul sorriso. E quindi con questa specie di affare ricatto… Certo, vabbè, ancora oggi così con i discografici comunque. Tu fai questo, poi fai il tormentone estivo, però io ti faccio fare il disco elettronico. Ed è stata una bella cosa, perché poi ho vinto il disco per l'estate nel 65 con Tu Sei Quello. Esatto. Che è stato un grandissimo successo. Un grandissimo successo, sì. E devo anche dire che allora fui fortunata, perché come agenzia artistica aveva Gianni Ravera. Certo. Che era l'organizzatore del festival di Sanremo. Esatto. Infatti Sanremo è stato nella tua storia importantissimo, perché tu hai partecipato tra l'altro a dei Sanremo molto molto importanti. Il primo, se non sbaglio, è il 67. 66, con Io ti darò di più, in coppia con Orbella Vanoni. Giusto. Poi nel 67 invece vai con la storica Io tu le rose. Io tu le rose. Un Sanremo difficile, perché fu l'anno, ahimè, di Tenko. Sì, di Tenko. E quella roba lì, com'è stata? Incredibile. È stata tremenda per me, per tanti anni. Perché tu eri citata anche nel suo biglietto di addio. Sì, nel suo biglietto dice, voto contro questa giuria che manda al primo posto una canzone come i tuoi rose e non vota la mia canzone. Però lui non ha citato la giuria dei giornalisti, che era quella di salvataggio, che invece la sua canzone non l'hanno salvata. Certo. Hanno preferito la rivoluzione. Sì, lì era un po' un jacuzzi nei confronti di un sistema. Che poi, guarda, sia il fratello di Luigi, mi ha detto, signora, non è la sua calligrafia. Poi mio fratello non avrebbe mai scritto un biglietto così. Ci sono tante congetture sulla morte di Tenko. E lo stesso suo amico, proprio amico amico, Sandro Ciotti, mi ha detto la stessa cosa. Perché poi io l'avevo vista il pomeriggio, dopo le mie prove. Lui cantava dopo di me e ci siamo incontrati perché l'orchestra dirigeva Patacini, un maestro che era direttore della Ricordi allora, ed era un mio vicino di casa, abitavano proprio in un paese vicino a me. Quindi conoscevo la sua famiglia, conoscevo lui. Ci siamo soffermati a fare due chiacchiere, ma non mi sembrava che fosse turbato perché io cantavo questa canzone. Anzi, mi ha detto il maestro, è bella questa canzone, è proprio adatta a un Sanremo, perché parla d'amore e parla di rose. Sai, allora le canzoni erano così. Adesso se tu parli d'amore è già una canzone vecchia, no? Beh, però devo dire che poi anche gli ultimi Sanremo ci hanno dimostrato che per quante rivoluzioni si sono fatte a Sanremo, ancora quando si parla d'amore c'è un ascolto, la canzone di Mengoni stessa che ha vinto l'anno scorso parlava d'amore, no? Però vedi, questo dramma che ha toccato la famiglia di Tenko è stato un dramma che ha toccato me e la mia famiglia per tantissimi anni, perché nell'ambiente del giornalismo io ero indicata come una pecore nera e quindi quando c'erano delle manifestazioni, che c'era la giuria dei giornalisti, io prendevo sempre zero voti, specialmente nelle manifestazioni come canzonissima, io nella giuria prendevo zero voti e poi prendevo tantissime cartoline che tra l'altro sono sempre andate in finalissima grazie alle cartoline voto che mi mandavano gli ammiratori. Tra l'altro mi viene da dire questa, una riflessione, tu eri a quel punto lì il paradigma del pop tradizionale italiano, quindi del bel canto, della canzone e via dicendo, quando in realtà tu hai trattato dei temi scomodi nelle tue canzoni mascherati da canzone popolare, faccio un esempio, andando poi a tanti anni dopo sempre a un Sarremo futuro, che a Sarremo 86 parla in realtà di guerra dal punto di vista di una madre e di un figlio che parte in guerra, questo è un tema attualissimo e più era anche un tema controverso all'epoca perché... Sì perché c'era la guerra fredda tra Russia e America e quindi loro non potevano decidere della vita di mio figlio, perché è una piccola nazione, d'altronde o va con una nazione grande o con quell'altra più grande, perché da sola non può farcela, ma le canzoni di svolta anche che io ho fatto, oltre a quelle melodiche con Pace e Pansieri Pilat, ho fatto anche le canzoni ironiche che adesso non le fanno più, non le fa più nessuno, perché tutti vogliono fare dei temi impegnati, allora io quando ho fatto Via dei ciclamini, parlava delle case chiuse... Sì, di prostituzione, quelle oggi si chiamerebbero sex workers... E c'era qui a Milano, proprio in Via dei ciclamini, nel 123 c'era questa casa chiusa... Ok, comunque era un tema scottante per l'epoca... Sì, anche perché loro avevano fatto diversi anni prima, ma nessuno aveva accettato di cantarla. Quando me l'hanno proposta io ho trovato la musica e le parole così adeguate bene insieme, che mi piacevano moltissimo, la mette che era giusta, e l'ho cantata e ho fatto bene, perché è lo stesso quando ho fatto Finché la barca va... Esatto, che è stata poi la tua hit, diciamo, iconica per eccellenza. Devi pensare che nel tempo ha fatto nove milioni di dischi, non sono pochi. Fisici, ricordiamo a tutti che questi parlano di nove milioni di dischi fisici venduti... Di una canzone, sì. Di un solo singolo. Sì, nel tempo. E anche questa canzone, quando me l'hanno proposta, io l'ho portata a casa, registrata, con il gelosino, perché loro non c'erano i telefonini. E mia mamma, ho detto, mamma, guarda, questa canzone dovrei farla a disco per l'estate, ma a me non piace. Mia mamma, come la sinistra, ha detto, perché non ti piace? È una canzone molto attuale, perché parla della nostra società. Ed è anche un esempio, no? Non devi mai fare il passo più lungo della gamba, non devi mai desiderare di essere una fotomodella quando sei una donna normale. Certo, ma in realtà poi quella canzone... Tanti problemi che una persona si crea, che invece con la semplicità di dire, io sono così e basta, e vivo una vita felice lo stesso... Tra l'altro descrive tanto il nostro paese quella canzone, no? Perché finché la barca va, va a lasciare andare. È un po' la filosofia dell'italiano. L'importante è leggere le strofe, perché il vino di Son Giorno Formica, il pane per il vino, tu ce l'hai perché protesta per il vino. Quando ci sarà la vendemmia ce l'avrai. È tutta una questione di attesa, la felicità. Io penso che la felicità, la nostra vita, è una questione di attesa. Prima o poi arriva anche il giusto compenso che tu vuoi, il giusto regalo che tu vuoi. Vedi, a me questo piace della cultura popolare, perché magari un ascoltatore più superficiale non si immagina che tu hai trattato dei temi così profondi nelle tue canzoni, invece delle canzoni anche ironiche, appunto, come Via dei Ciclamini, come hai detto prima, oppure Futuro, con una canzone molto più, diciamo, cupa nel tema. Però hai parlato di argomenti importanti per la società di allora, ma ancora oggi. Ancora oggi si parla di sex workers, di prostituzione, oppure ancora purtroppo si parla tanto di guerra, no? O appunto di felicità, quasi della salute mentale che ci vuole per arrivare a uno stato di serenità. Tu l'hai trattato, ante litteram, in delle canzoni leggere, se si possono chiamare così, quando in realtà poi leggero non è mai la musica. Erano canzoni ironiche, allora l'ironia era la base di tutto. Una cosa che adesso non la fa più nessuno. Cantano tutti seriamente, qualsiasi argomento d'amore oppure di politica, così. Forse è un po' Rovazzi, no? Che è un tuo carissimo amico, è molto ironico nei pezzi che fa. Poi magari non tratta degli argomenti seri, però comunque fa anche un po' riflettere spesso con le sue rime, però sempre con un fondo di ironia. Infatti voi due vi trovate benissimo insieme, siete proprio... Sì, ci siamo trovati sulla nave, dove tu mi hai fatto fare degli abiti straordinari. Sai che non passavo dalla porta delle cabine con quegli abiti lì? Qui la dobbiamo raccontare, ragazzi. Quando Orietta, praticamente dopo il Sanremo di quando ti sei innamorato, ha avuto appunto il grandissimo successo che ha avuto quella canzone, l'anno dopo richiamano Orietta per diventare la conduttrice insieme a Rovazzi dei collegamenti dalla nave ancorata all'arco di Sanremo. Orietta lì mi richiama dicendo, dobbiamo fare qualcosa di pazzesco e abbiamo chiamato una drag queen, che è famosa per fare degli abiti per tutta la scena drag italiana. Si chiama Kelly Rocha, noi la salutiamo. Un bellissimo ragazzo. Un bellissimo ragazzo, sia da maschio, una bellissima ragazza da drag. Ha questo brand che si chiama Rochart e fa questi bellissimi abiti drag. E ha fatto degli abiti drag barra Orietta, per Orietta, che erano meravigliosi. Uno era da Piumino della Cipria, come l'hai chiamato tu. Sì, che era bellissimo. Quell'altro era io e tu le rose, c'erano le rose e le spine. Le spine erano più grosse delle rose. Esatto. Perché in effetti le spine... Sono più i dolori che i piaceri. Esatto. E poi c'era l'altro di Via Colvento, che aveva questo cappello enorme, col mantello. Esatto. E avevi anche uno blu, un po' da principessa del mare. Da Fatina del mare, sì. Quello ha fatto la cover sui telefonini, data per la maggiore. Chiorello poi... Esatto, usava sempre quella cover. Sempre quella, la pure persa. E l'ha rimandata. Sì, sì, sì. No, fantastico. E questo è stato un Sanremo bello importante. Mi piacerebbe ancora tornare in una trasmissione e fare tutti questi tre vestimenti. Non più vestibili di paillettes, normale. Però fare questi tre vestimenti mi piacerebbe moltissimo. Facciamolo. Diciamolo a Carlo Conti. Carlo Conti, ci stai guardando. Orietta è pronta a fare dei nuovi tre vestimenti. Quindi io te la butto lì, che è un attimo chiamarla. Orietta, quindi niente. Noi abbiamo passato adesso tantissimi anni di carriera parlando appunto di tutte le tue grandite. Tu hai dei ricordi che per te sono iconici in questi 60 anni? Cioè, quali sono le cose che ti ricordi con più piacere di questi 60 anni? Non so, un aneddoto, una cosa anche degli ultimi anni. Perché poi tu hai avuto un successo incredibile anche con la musica dance, con tutti i tormentoni. Ma guarda, quando sono andata a Sanremo, che non volevo andare perché dopo 29 anni, devi ammetterlo anche tu, insomma, un personaggio come me poteva anche avere paura, perché erano tutti ragazzini. E quindi io potevo essere la nonna, la mamma, la zia di tutti, no? Però mi hanno accolto con tanto affetto che poi questo disagio mi è andato via subito. Che era appunto il Sanremo 2021. Sì, e lì ho conosciuto Manuel Itterraton, che mi ha proposto di fare questa commedia per X Factor sui social, che poi alla fine mi avrebbe fatto una canzone insieme a Rosville e suo marito Andy, che mi hanno poi fatto l'una piena, no? Però nel frattempo ho incontrato anche Fedes, nell'ultimo giorno l'intervista. Che era in gara anche lui, quell'anno. Sì, e mi ha proposto una canzone. E anche Lauro c'era. C'era, e mi ha detto, facciamo la canzone per l'estate, se non ti piace la facciamo per l'autunno, ma sai, sono quelle battute che si dicono così. Ma lui di parola mi ha mandato subito la canzone. Ed è arrivata a mille. Sì, mille. E poi mi ha detto, ci sarebbe una cosa che devo dirti. Dice, Achille Lauro, vorrebbe cantare anche lui, ti va? Ho detto, per bacco, abbiamo fatto già Tombola. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, io vi vorrei anche un po' raccontare il retroscena di questo San Remo, perché sembra così raccontato una cosa tranquilla. Metto un attimo nel contesto. Pieno Covid. San Remo diventa una zona rossa, perché ovviamente, essendoci tante persone, gli addetti ai lavori, ma anche tanti fan, curiosi, avevano paura che ci fossero tante persone che venivano lì. Quindi hanno fatto tutto, hanno bloccato tutta la parte di San Remo. Quindi noi eravamo tutti chiusi in dei cluster, come li chiamavano loro, per fare in modo che non ci fossero contagi, anche perché si rischiava che se un artista in gara sarebbe risultato positivo, poteva essere eliminato, anche se era positivo uno del suo staff. Infatti, se vi ricordate, i Rama purtroppo... I Rama hanno mandato la prova. Ah, sì, esatto. Purtroppo hanno mandato in onda solo la prova e non partecipò in gara, ma purtroppo non fisicamente. Quindi eravamo tutti un po' impauriti. Quindi in quel clima di, diciamo, un po' di contenimento, io stavo lavorando sia con Imaneskin, con te e con Achille Lauro, che è la super ospite, e uno si può immaginare che in realtà il vero momento rock fuori dalle quinte venisse dai Maneskin. In realtà Orietta ha combinato di tutto in quell'anno. Allora, a un certo punto, prima che inizia il festival ci chiamano, c'è la polizia che ha fermato Orietta, vogliono arrestare Orietta perché ha rotto la barriera della polizia. Sì, entro le dieci potevi girare. Esatto, si poteva uscire il coprifuoco. Esatto, avevi violato il coprifuoco. Allora, alle undici e dieci ero lì in piazza, dal municipale, dove c'era il… Eh certo, perché andavi a prendere i vestiti. Perché venivo a prendere i vestiti, perché mi disse, l'ha detto, che non ci stavano nella sua camera, perché aveva una camera singola e tutti quei sacchi non ci stavano, o lui o i vestiti. Esatto. E quindi, niente, prima la polizia che vuole arrestare Orietta perché infrange il coprifuoco. Poi, a un certo punto, Orietta allaga la stanza come una vela rockstar perché ti hanno regalato dei fiori, giusto? Sì, sai i bouquet che ti danno… e quindi me li avevano regalati prima che ho fatto un'intervista, dopo… insomma, avevo tre bouquet e l'ho messo nei tre lavandini, perché avevo due bagni, avevo una suite, e poi ho lasciato andare l'acqua e poi non me ne sono accorta, io mi sono addormentata. Eh certo. E quindi quando mi alzo verso le tre di notte, accidenti, ho messo il piede per terra e c'era l'acqua. Esatto. Allora ho chiamato mio figlio, ho chiamato Pasquale Mamor, con degli asciugamani, abbiamo tirato su un po' l'acqua, perché il pavimento era tutto di legno, poi c'erano tutti i mobili antichi, quindi si sarebbero rovinati. Eh certo, quindi Orietta ha praticamente distrutto una camera d'albergo e la polizia la vuole arrestare, pieno stile rockstar, infatti lei è la più grande. In quel Sanremo lì noi abbiamo, come dicevi prima, appunto lavorato con GCDS. Tu mi hai chiamato, io ricordo ancora, anzi no, non mi hai chiamato tu, ti ho chiamato io, perché quando eravamo a casa, era dicembre, che Amadeus stava annunciando, diciamo, i partecipanti del nuovo festival, a un certo punto dice Orietta Berti, ho detto no, non è possibile che Orietta non mi ha avvisato che va a Sanremo. No, perché io non lo sapevo. Esatto, io ti ho chiamato subito e tu avevi il covid, mi ricordo, ed eri quindi a casa. Ho detto ma scusa non mi chiami, vai a Sanremo, ti voglio vestire io. E tu eri sorpresa, non sapevi niente, com'è andata? Eh, perché io quando Pasquale Mammoro ha presentato la canzone, io ho detto guarda non presentarla perché io non ci vado al festival di Sanremo, perché sono senza voce completamente, ho il covid, chissà se mi verrà la voce, no? Poi io ero spaventata, sempre per via di questi 29 anni che mancavano, e lui invece di nascosto hanno fatto tutto loro, siamo Adesco e Pasquale Mammoro. Io mi sono ritrovata lì a vedere che annunciavano i cantanti e lui mi ha telefonato e mi ha detto ma guarda che sei nella lista dei cantanti, e io un po' sconcertata, un po' che stavo litigando con mio marito, perché anche lui era in disaccordo alla mia partecipazione. Beh, poi tu il giorno dopo mi hai mandato una pianta di fiori di cotone, lo sai che ce l'ho ancora? Ah sì? Ma sì, ma è una roba, è un miracolo. Ah, vedi? Ma sai quanti anni sono? Sì, sono tre anni abbondanti. E vive anche, c'ha tutti i fiori di cotone ancora belli. Ah che meraviglia, vedi? E quindi vedi, è proprio un destino, è un destino così. Esatto, e tra l'altro noi appunto raccontiamo un po' in retroscena dei tuoi abiti che sono stati iconici ancora oggi a carnevale, la gente si veste con le tue conchiglie. Sì, specialmente le ragazzine e i bambini. Esatto, praticamente noi, tu quando mi hai appunto detto ti voglio fare una cosa speciale, stravagante, abbiamo deciso di collaborare con un brand lontanissimo in teoria da te, che è GCDS, che veste tutte le pop star mondiali, Dua Lipa, Miley Cyrus e Orietta Berti, si può dire, e Giuliano che è un designer straordinario, ha immaginato tutta una serie di cose, ma io ricordo ancora che tu avevi visto queste conchiglie che loro avevano in collezione, un reggiseno da Starlet di Las Vegas. No, ma c'era una cantante americana che aveva questo abito con le conchiglie, che era tutto fatto con delle file di strassi. Esatto, con delle catene. E tu hai detto no, queste conchiglie le voglio mettere anch'io. E quindi Giuliano l'ha applicata a questa blusa ed è diventato assolutamente iconico. Tu avresti immaginato quello che sarebbe successo? No, ma neanche l'abito dell'ultima sera, che era una specie di tessuto in paillettes, ma strano. Tu le facevi così, sembrava un mappamondo. Le famose paillettes pettinate. Sembrava un mappamondo, perché giravo così sembrava una nazione, giravo così sembrava un'altra nazione. Sì, sì, sì. E' stato bellissimo. Poi avevo una collana di 20 chili addosso di strassi. Che mi teneva così, così un po' più vicino al microfono. Ci sono stati dei meme straordinari. No, ma la prima sera, mi ricordo benissimo, che avevo questi pantaloni di paillettes, foderati di raso. Il calore del corpo fa scivolare il raso. E quindi questi pantaloni mi scendevano pian piano. Eri dimagrita. Pasquale, ma mi scendono i pantaloni. Beh, come facciamo? C'era una spilla da baglia. Allora abbiamo cercato una spilla da baglia dietro le quinte. Sì, perché Sanremo è un po' complicato. C'era una signora che aveva, sempre addetta ai lavori, aveva, sai, le madonnine attaccate qui? Sì. Con una spilla piccolissima ha staccato le madonnine del reggiseno e mi ha dato la spilla. Esatto, le madonnine hanno portato fortuna. Era un po' piccolina, per dire la verità. Infatti nel davanti scendevano. Esatto. E infatti se tu vedi le foto, nel davanti ho delle balze sopra le scarpe. Era un po' lungo, vabbè. Comunque non sono caduti i pantaloni. L'importante era quello. Sanremo è veramente iconico, tutti ce lo ricordiamo. Praticamente l'avete vinto, tu e Imaneskin, che saremo lì, insieme. Che poi ho chiamato? Esatto. Come li ho chiamati? I nazi schi. Ah, no, sì, perché oltre ad aver sfacciato la stanza, la polizia, in un'intervista, dice complimenti ai nazi schi. No, ho detto, vorrei fare un duetto con loro, con i nazi schi. Quindi è venuto su Pasquale sconcertato, ma come hai potuto dire una cosa del genere? Ho detto, ma guarda Pasquale, mi è scappato, delle volte con la stanchezza, dici, nella mente hai questa parola esatta, poi dopo invece in bocca te ne viene fuori un'altra. Avevi chiamato anche Ermal Metal. Metal, ha detto che dopo cambiava nome anche lui. Esatto. Senti, ma ritornando appunto agli abiti, tu che rapporto hai avuto con la moda in tutti questi 60 anni? Perché tu hai avuto anche dei grandissimi nomi che ti hanno vestita. Sì, dalla Mila Schoen a Tussardi. Mila Schoen, esatto. Poi avevo questi abiti di paillettes per i concerti negli Stati Uniti, che li faceva questo De Rossi, che allora faceva questi abiti di paillettes che erano opera d'arte, perché era tutto un ricamo incrociato, tutti fatti a mano, costavano l'ira di Dio. Certo. Mi ricordo che quando i primi anni che ero con questa multinazionale, mi mandarono a una scuola di trucco e parrucco. Ah, ok. Andai dai vergottini per imparare a fonarmi i capelli così. E poi andai da questa Francesca Moro, che era la più grande truccatrice di quei tempi, faceva tutti i trucchi per le copertine, per le donne, no? E andai a prendere dieci lezioni da lei. Ah, fantastico. E quindi io da allora mi trucco sempre da sola. Massimo mi faccio dare un po' di fardo oppure un po' di bianco. E questa era una cosa che si usava all'epoca, forse è proprio per fare in modo che gli artisti fossero sempre a posto, anche da soli. Perché i direttori di queste case internazionali dicevano che un artista si deve saper truccare da sola e pettinare da sola perché lei sa i prigi di effetti. E quindi adesso no, perché vengono tutti col truccatore, con le trucatrici e tutto quanto. E anche con gli abiti andavi sempre con un addetto ai lavori che ti portava in queste, diciamo, maison di alta moda e ti facevano provare degli abiti. Poi dopo, non so, un po' il colore, un po'. Quando andai per la Mila Shawn, lei fece questo abito rivoluzionario che è bellissimo, ce l'ho tuttora. Poi è tutte sottulle ed era strisce gialle, bianche e nere. Sì, storico tuo abito. Con il bianco-nero veniva soltanto una striscia. Sembrava un'autostrada, quello è vero. Comunque, ma l'abito è stupendo ancora. È meraviglioso, sì. È bellissimo. E quando andai da Trussardi, invece, mi ha vestito sempre in pelle. In pelle scamosciata. Certo. Quindi la pelle è un po' rigida. Che anni erano? 70, 80? Con il futuro, sì, cos'era. 86. 86, sì. Ok. E per un periodo mi vesti sempre lui, abiti bellissimi in pelle che ce li ho ancora perché sono come delle opere d'arte, non le butti via. Che tanto tu hai un archivio di roba incredibile. Casa tua è un luogo magico, si può dire. Tengo tutto, persino i fiocchi dei regali. Fantastico. Casa di Orietta è un posto un po'... Vorrei paragonarlo un po' a Graceland di Elvis Presley. Meno triste, più allegro. Perché tu hai un archivio di abiti, tutti gli abiti che hai indossato. Quindi è veramente un museo. Bisognerebbe anzi fare una bellissima mostra con i tuoi abiti. Sì, poi tutti gli abiti in casmi della Biagiotti, che ho vestito anche a Biagiotti quando ero con Fabio Fazio. Quelli che è il calcio, che mi mandava in giro come opinionista di stadi. E poi hai delle stanze con... Ho tanti abiti anche di chiffon. Ah sì, certo, molto leggeri, svolazzanti. Poi tantissimi abiti in pizzo e chiffon neri, bellissimi. Perché ogni volta che mi facevano un modello, mi facevano in diverse tinte. Ma certo, così potevi usare. E adesso, sai Nick, non ci vado dentro neanche con una gamba. Perché sono ingrassata. Perché sono ingrassata. Gli osai, una stanza con la tua collezione di acqua santiere. Sì, di marmo e closonè. Ah, ok. E ce ne sono tantissime. Sì, 90. 90? A pese. Perché arrivo sempre a 90, poi mi fermo, no? Ah, 90 è il numero in cui ti fermi con le collezioni. Però dopo arrivano in regalo. Infatti tutte quelle in porcellana, in ceramica, così le ho in tutte le stanze. Ok. E le ho attaccate dappertutto, ma sono regali che sono venuti. Ok, non sono quelle che trovate. Come le bambole, no? Le bambole. Esatto, una stanza con tutte bambole. Tutte bambole. 90 anche lì precise. Sì, no. Adesso un po' di più perché arrivano da tutte le parti. Ah, certo, le regalano i tuoi fatti. Quindi ne ho messe anche negli scatoloni, su in mansarda. Ce n'è anche… Perché sai, io faccio collezioni anche di borse. Borse, certo. Io vado sempre in giro con la stessa borsa da anni, no? Poi mi regalano una borsa nuova, ma io la metto nella collezione. Io ho collezione le scarpe con il tacco altissimo che non porterò mai perché… Tu hai dei tacchi sempre vertiginosi. Sì, però tantissime scarpe da collezione non le ho mai messe perché il tacco è talmente vertiginoso che mi proietta in avanti. Perché infatti, tra l'altro, nella tua collezione io ho visto dei tacchi ma tipo 20 alti, tipo da drag quasi, no? Da pole dancer, esatto. E poi anche parrucche incredibili hai. Gialle, verdi, anche lì 90 ne hai? No, lì, sì, forse sì. Sì, perché io mi ricordo questa stanza piena. Sì, sì, forse sì. Adesso c'ho due armadi pieni, poi ho fatto collezioni anche dei puffi, no? I puffi, esatto. Tranne due o tre che magari i miei figli hanno scambiato con delle figurine a scuola, così però… Ah, no. O quelli originali, eh. Eh, certo. Poi… No, le collezioni sono stupende. O anche… Adesso faccio collezioni di angioletti, sai, quelli belli paffutelli. Ok. Ecco. No, una cosa che mi piaceva delle tue collezioni era questa cosa che mi raccontavi, che tu vai nei mercatini di antiquariato e via dicendo, compri una cosa e poi la sfida è trovare in altre parti del mondo la copia. Sì. Vero? È tutto doppio. Cioè le acque santiere, non hai mai trovato un'acqua santiere uguale, perché ogni orafo ha il suo modo di incidere. Ah, è proprio una cosa… Sì, sia sul lavorio, sul metallo. Invece i mobili sì, perché ho visto che hai delle cose identiche. Sì. Tipo due, non so, comodini, due trumò, due sedie… Sì, del vetrinetto, che una l'ho trovata in Alto Adige e l'altra l'ho trovata a Reggio Emilia, pensa, dello stesso falegname, perché ci sono i testi disegni e mi piace quando avevo più tempo. Adesso sei in prenemente, in promozione, in tour. Quante date fai all'anno? Beh, in promozione tantissime, perché Pasquale Mammo mi trova tutto… Pasquale è il mitico manager di Oglietto. Tutto e di più. Esatto. Sì, anche concerti ne fai tantissimi. Sì, però mi piace fare la promozione. Perché quando fai un lavoro è logico ed è giusto che tu lo promuovano. Certo. Ha detto Fiorello, io ho la canzone, te l'ho scritta, però io non posso venire a fare la promozione perché sono talmente stanco da questa ultima edizione che vorrei proprio riposarmi. Ho detto, ci penso io. La faccio io da sola. La faccio la maggior parte da sola. Senti, ma invece storicamente quali sono stati i tuoi ascolti? Cioè tu cosa hai ascoltato in questi 60 anni di carriera? Cos'è che ti ha ispirato per la tua musica? Beh, quando ero piccola in casa mia c'era soltanto musica lirica. Da mio zio a mio padre così. Sentivo soltanto romanze di questi grandi così. E se fosse stato proprio mio papà io dovevo diventare un mezzo soprano. Ok. Per fortuna che invece tutti gli hanno detto ma non ha la voce adatta, non ha voce questa ragazza. Perché quando tu vai a fare dei provini, se una persona è timida la voce non esce, no? Certo. Ma lui, cocciuto, mi ha mandato a scuola di canto lirico e quindi mi hanno rafforzato la voce facendo degli esercizi perché la voce è un muscolo e più tu la eserciti e più la voce si trasforma e diventa più larga nelle basse, più larga nelle acute. Le medie ce le hai sempre perché parli. E così grazie alla sua insistenza ho cominciato a fare dei piccoli concorsi di voci nuove e poi ho trovato Giorgio Calabrese che mi ha fatto venire a Milano, mi ha inserito qui insomma in una casa discografica. E poi ha iniziato. E dopo... Chi sono stati i tuoi artisti preferiti da ascoltare? Tu sei stata una fan di Otis Redding. Lo so perché il tuo figlio si chiama Otis per questo motivo. Beh, Sinatra, mi piaceva molto la sua voce, le sue canzoni. La Gloria Gaynor mi piace perché canta popolare, canta le canzoni. E la Frigerer mi piaceva molto per la sua tecnica. La Barbara Streisand perché è una voce... Un'altra grande voce. Sì. E poi in Italia sono sempre stata una grande ammiratrice di Mina. Beh, Mina. Anche perché il mio primo pezzo, il mio primo concorso di voci nuove è stato di Ciro in una stanza. Ok. Di Gino Paoli però ho cantato da lei. Nella versione di Mina. Sì, nella versione di Mina. Quindi tuttora l'ammiro per la sua vocabilità perché lei ha un'estensione enorme. Ancora adesso poi tra l'altro ha qualche graffio in più ma molto bello nella voce, no? Sì, mi piace molto di più. Senti ma... E invece delle generazioni nuove chi ti piace? Dei ragazzi di oggi? Beh. C'è qualcuno che ti ha colpito? A me quello più simpatico di tutti è sempre Achille Lauro. Ok. Ecco. Però mi piacciono tutti. Fedez, Rovazzi, l'ho sempre ammirato perché ha un carattere e poi è molto intelligente Fabio. Quello che scrive mi piace. Ma a dire la verità io vorrei cantare con tutti solo che non ho l'età e poi non ho più il tempo. Non hai l'età, sei la più giovane di tutti alla fine dei conti. Beh, sì, mi piacerebbe cantare con altri cantanti giovani, non dico i nomi perché non voglio coinvolgere nessuno. Però adesso dopo aver fatto la cosa con Fiorello che nel suo è il numero uno perché sa cantare, ballare, imitare. Assolutamente, showman completo, incredibile. E poi c'è questo modo ironico di coinvolgere tutti, no? E adesso, sai, è sempre più difficile la scelta, eh? Ebbè, poi ce ne sono tantissime adesso, tutto il mondo dell'urban, incredibile. Ma proprio per questo motivo, senti, domanda, c'è un genere musicale che tu non hai mai affrontato, di cui ti piacerebbe fare un pezzo, un disco? Non lo so, tu hai fatto un po' di tutto, c'è il pop, c'è la dance, c'è la cosa folk, tu hai cantato anche tanti canti popolari. Sì, ecco, il folk, anche quello è stato una cosa ottima che anche lì non avevo intenzione di farla perché il mio produttore a tedesco diceva, guarda, dobbiamo fare i dischi... Sai quando sono venuti fuori i cantautori? Certo. E il cantante melodico italiano era messo un po' sotto tono. Dice, dobbiamo fare una cosa che vada bene anche per gli intellettuali. Quindi facciamo una ricerca di canzoni delle radici italiane, del folk. E quindi mi hanno dato due personaggi che erano addetti ai lavori, che erano, diciamo, il top, Battaini e Bonetto, insomma, erano due bravissimi ricercatori. E abbiamo fatto questi tre dischi di folk dove ho fatto 75 brani. E abbiamo fatto gli originali, proprio solo perché una canzone veniva tradotta poi in napoletano oppure in lingua toscana, in lingua ligure, ma la canzone magari era nata in Piemonte. Ok. E aveva un testo piemontese. Ah, quindi hai adattato, diciamo, delle canzoni di zone specifiche anche ad altri luoghi italiani. Sì, tutte le regioni italiane. E naturalmente mi venivano meglio i dialetti, insomma, più vicini al tuo, esatto. Dell'Alta Italia. Però, a dire la verità, anche il napoletano mi piace molto. Mi piace molto la lingua napoletana. Infatti ho inciso anche alcune canzoni classiche napoletane. Sì, è vero. Tra l'altro dicono che tu hai un accento perfetto napoletano. Eh, ma lo studio molto. Anche perché quando faccio le canzoni napoletane vado a farle a Napoli con l'orchestra napoletana e con il maestro napoletano. Quindi qualsiasi vocale che tu dici di traverso lui te la corregge. Tra l'altro è molto bella questa cosa della musica folk perché anche lì, vedi, in Italia non si usa quasi più, no? Cantare le canzoni della cultura popolare per i cantanti, dico, di oggi. Però invece ammiriamo tutti molto personaggi come Rosalia o Tangana che in Spagna stanno riscoprendo e modernizzando il flamenco che per loro è la nostra canzone popolare, no? Bellissimo, bellissimo. E la musica preferita è di mio figlio Otis. È bellissima, sì. Che lui ha vissuto là diversi anni in Spagna e quindi è innamorato di questa nazione. Io ci vedo a fare un po' un disco però spagnolo, un po' di folk. No, però dico anche un po' moderno alla Rosalia. Sì, beh, ho fatto, io ho fatto i classici. Certo. A Besame Mucho, a... Certo, certo. A Can Serra, a tutti quelli lì. Sì, tra l'altro tu col tango stai benissimo. Per fare un omaggio ai miei amici di Los Angeles che Sergei è nativo argentino però lui è polacco, la famiglia è polacca. Quindi sono andati là quando c'era il nazismo e lui però è nato in Argentina. Allora per fare un omaggio a loro ho cantato per il mio quarantesimo compleanno di carriera. Ho fatto questo disco con 14 brani di canzoni latine, tutte in lingua latina. Tra l'altro, piccolo aneddoto che non tutti sanno, io ho avuto il grande onore che Orietta ha cantato al nostro matrimonio per puro caso. Noi avevamo una... ci siamo sposati in un posto qua a Milano, una bella serata tra amici, eravamo pochissimi, e avevamo preso come musica una piccola band di tango argentino che vivono tra l'altro nelle tue zone, zona regione Emilia. Due maestri vivono proprio a Montecchio Emilia, nel mio paese. Ah, vedi, proprio a Montecchio. E a Insaputa di Orietta avevamo fatto preparare una versione tango di Dietro un grande amore, che è la prima canzone che noi abbiamo fatto, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto il tuo video. Sì, sì, il mio primo video. Orietta a un certo punto riconosce le note di questa canzone, si alza e prende il microfono e inizia a cantare. Tutti erano basiti. Perché poi tu hai cantato... Cosa mai ci sarà dietro un grande amore? Che meraviglia. Ma era bella quell'orchestrazione lì. Erano molto bravi per ragazzi. Hanno fatto un tango proprio intenso. Molto intenso, tant'è che ragazzi, noi abbiamo registrato quella serata lì, che è col mixer classico dei musicisti. A fine serata abbiamo detto, guarda, Orietta, abbiamo la registrazione di questo pezzo. E l'ho messa, l'ho messa nel cofanetto. E infatti noi l'abbiamo mandata solamente per dirle, guarda, esiste, lei l'ha messa nel cofanetto, quindi oggi su Spotify, su Apple Music o sul disco fisico dei 50 anni di Orietta c'è quella versione che si chiama Sugarcane Wedding Version. Sì, che io comincio a cantare a metà canzone, perché è il tragitto di arrivare al microfono dell'orchestra. Che tra l'altro ho dovuto fare il giro della piscina. Esatto, c'era una piscina in mezzo. E no, è stato un momento incredibile anche perché c'erano molte persone di Buenos Aires che non ti conoscevano, pensavano che fossi una nostra amica e viene dicendo quando vedono questa signora che si alza, va, prende il microfono e canta in quel modo. Si sono azzittiti tutti e erano sconvolti. Poi abbiamo raccontato chi eri e via dicendo, ma è stato un momento veramente super emozionante, ma si sente in quella registrazione. Infatti invito tutti ad andarla a ascoltare perché poi quel tuo disco lì, quel tuo super mega cofanetto, perché quanti pezzi ci sono dentro? È una marea. 109. 109 brani. Non è proprio da tutti avere 109 brani. E' veramente un disco che racconta tutta la canzone popolare italiana, fondamentalmente. Sì, praticamente la mia carriera, no? Che poi a me quello che piace di gli artisti che hanno queste, diciamo, carriere lunghissime è che a un certo punto non diventa più solamente la tua storia, ma diventa la storia popolare del nostro paese. Perché voi avete attraversato veramente delle trasformazioni incredibili e l'avete sapute non solo navigare, ma anche raccontare, come dicevi tu nelle storie prima. Quindi questa è una cosa che ti fa veramente tantissimo onore. Guarda, devi anche comprendere che allora l'unico divertimento era la televisione, no? Certo. Tanti non l'avevano, andavano dal vicino. Certo. Al sabato sera si facevano degli ascolti tremendi quando facevano canzonissima perché era legata alla lotteria di Capodanno. Quindi si facevano tipo 20 milioni di telespettatori e la finalissima era 30 milioni di telespettatori. Pazzesco. Quindi nessuna trasmissione adesso fa questi numeri, no? Anche Sanremo faceva così. E quindi siamo entrati nelle case, siamo diventati a far parte della famiglia. Certo. Noi cantanti di quegli anni, no? Sì, sì. Adesso si disperdono un po' di più perché ci sono tante vie di comunicazione. Puoi promuovere la tua canzone in tanti modi, il tuo libro, il tuo film, capisci? Invece allora c'erano soltanto due canali. Sì. Dopo sono diventati tre, ma il terzo era soltanto culturale. Certo. E quindi ogni volta che tu andavi a una manifestazione dovevi stare attento alla canzone che portavi perché infatti la mia fortuna era questa, che essendo in una multinazionale, quando dovevo partecipare o la finalissima dei Canzonissima o Sanremo o il disco per l'estate, loro facevano una specie di sondaggio. Mettevano le mie canzoni in una fabbrica qui a Milano della Philips. Ok. E mettevano cinque o sei pezzi. Poi alla fine di una settimana la votazione della canzone che veniva votata di più, io la facevo anche se a me non piaceva. Ah ok, era tipo un focus group che sceglieva la canzone più che piaceva. Sì, e quindi io quando sono andata al disco per l'estate o a Sanremo ho sempre fatto delle canzoni che non erano proprio quelle che io avevo desiderato. Che però hanno avuto un grande successo. Aveva scelto, non so, i dirigenti, impiegati, gli operai, capisci? Quindi era un sondaggio. Certo. E quindi arrivavo là che ero già sicura che se c'erano le votazioni del popolo venivo votata. Beh questo è un metodo, devo dire, geniale. Sì. E allora con gli stranieri facevano così. È fantastico. Sono stata fortunata. Beh sei stata anche brava. Non è che la fortuna poi conta fino a un certo punto. Mi ricordo che una volta andai al disco per l'estate con una canzone dal titolo Non ingiurti mai. Sì. E allora c'erano questi pace panzeri che davano canzoni a tutti e facevano successo tutti. E io mi dissi ma in queste canzoni ci sono troppi mai. Io mi stanco di dire sempre mai, mai, mai. E allora panzeri che era più anziani hanno detto senti piccolina se togliamo un mai togliamo centomila coppie. Eh però. Non ho più parlato perché avevano ragione loro. Poi pensa che questa canzone l'hanno incisa 120 gruppi in Europa all'avanguardia. Devo dire che tutti i gruppi avevano degli arrangiamenti più bello del mio. Vabbè perché forse erano di generi anche diversi. Però la canzone si vede che piaceva a loro. Persino gli Abba, la cantante degli Abba l'ha incisa. Ah pazzesco. E ha venduto tantissimo. Come ad esempio alla fine della strada di Venne Love Me Tonight e l'ha incisa Tom Jones. Ah fantastico. Però io magari ho venduto 800.000 coppie che allora era una vendita regolare. Lui invece in tutto il mondo non so quanti milioni di dischi, forse 15 milioni di dischi. Oggi un cantante ucciderebbe per vendere 800.000 coppie. Però pazzesco. Però vedi allora si facevano delle canzoni. Era poi anche il boom della canzone italiana. Negli anni 70-80 andava molto nel mondo. Infatti tu hai attraversato poi i confini sia fisicamente che con la tua musica perché e poi tu hai viaggiato in tutto il mondo perché hai venduto coppie in tutto il mondo letteralmente dall'Oriente. Senti non sono mai stata a fare una tournée in Sud America e mi dicevano i miei colleghi da... Mi dicevano guarda che là sei in classifica. Però non ho mai avuto l'occasione perché preferivo sempre andare al Nord America perché avevo amici. Sì tu spendi tanto tempo negli Stati Uniti, tanto a Los Angeles. Ogni anno ci andavo due o tre volte anche in Australia. perché sempre i collaboratori che ti trovi bene è difficile dire ma vado là al buio è meglio che torno qui con loro che ho già lavorato con loro. Certo. E non sono mai andata in Sud America tranne per fare un film per la TV con Banfi. Ah sì ma avevi raccontato. Sì sono stata a Buenos Aires. Eravate in Argentina. In Argentina sì. Beh adesso allora la nostra sfida sarà tornare in Argentina e farti fare un concerto gigante a Buenos Aires con tutti i parenti di Leandro. Ma ci sono tanti cantanti, tanti italiani anche là. Tantissimi certo. Quindi sono tutti italiani. Sai che Leandro dice sempre che c'è un detto in Argentina che in realtà gli argentini per gli altri sudamericani sono italiani che parlano spagnolo ma che si sentono in inglese. Sì sì sì. E' vero perché sono un po' snob rispetto agli altri sudamericani. Devo dire una descrizione che li racconta abbastanza. Senti ti volevo chiedere le ultime due cose. La prima tu appunto in questo racconto che ci hai fatto di questi 60 anni incredibili di carriera e di grandi cambiamenti storici e sociali tu sei diventata poi anche un'icona gay. Noi siamo oggi nel Pride Month nel mese di giugno e tu sei amatissima dalla comunità LGBT. Sì sì vero vero che io anche cantare. Esatto ah vieni al Pride fantastico. E tra l'altro tu hai sei proprio stata abbracciata dalla comunità anche perché tu hai speso parole positive nei confronti della comunità omosessuale in tempi non sospetti. Abbiamo fatto anche l'anno scorso il video diverso. Esatto noi abbiamo fatto questo video di questa bellissima canzone che tu hai scritto che parla è una lettera di una mamma a un figlio gay. Sì sì. Esatto e nel video avevamo un progetto benefico che tu hai voluto fortemente ed è una cosa meravigliosa per i ragazzi di Casa Arcobaleno che sono questi ragazzi che vivono in queste case che sono per il momento localizzate a Milano perché sono stati diciamo in una situazione di pericolo o rifiutati dalle proprie famiglie e per non lasciarli ovviamente soli questa associazione non solo gli dà un vito in un alloggio ma gli aiuta anche a inserirsi nel contesto sociale. Gli insegna anche un lavoro, gli insegna anche stare nella società. Sì e devo dire che questo era stato un tuo grande merito di aver voluto… Sì abbiamo fatto anche un altro video se ti ricordi, il coraggio di chiamare l'amore per tutte quelle donne che hanno incontrato purtroppo nella vita l'homo sbagliato. Verissimo. Si parlava di violenza di genere certo. Sì sì bellissimo video. A me piace tantissimo questa cosa che tu hai affronti delle tematiche con una leggerezza ma che non è mai superficiale. Cioè la leggerezza è anche profonda. Quindi è bellissimo che queste canzoni che magari uno non ci pensa poi invece raccontano dei temi ancora oggi forti. Veri. Veri. Molto attuali. Veri. E devo dire che io ho cominciato questo lavoro con dei ragazzi gay. Perché quando sono entrata a far parte della multinazionale Philips il direttore artistico Ebnett era gay. Pensare ai 60 anni fa come adesso. No ovvio era un altro mondo. E quindi lui aveva una capacità, una fantasia, un'intelligenza che gli altri non avevano. Perché è stato lui fermamente che mi ha detto tu devi cantare l'italiana perché hai una voce bella e devi cantare canzoni italiane però attuali. infatti tu sei quello è una bellissima canzone che ancora oggi tu la puoi cantare modernissima ancora oggi. È vero tra l'altro è una delle più cantate anche ai talent. Sì. Come quando l'amore diventa poesia è una gran bella canzone di melodia proprio la vera melodia del bel canto italiano come io ti darò di più. Certo. E lui mi ha sempre sostenuto e mi ha detto tu non devi imitare Mina oppure le cantanti straniere no? Perché tu devi essere personale. Anche se tu canti meno bene non facendo le imitazioni non ha importanza ma sei personale. Quello che io voglio dire a questi ragazzi è che tutti hanno la mania di cantare in inglese ma cantate in italiano fatevi la vostra personalità con la metrica italiana in bocca non la metrica inglese. È logico che quando canti il rapper devi mangiarti in mezzo alle vocali se no non stai giusto nel tempo. Però io quello che dico è essere se stessi e avere una grande personalità. Cosa che adesso tu chiudi gli occhi e dici chi è che canta? Sì sono tutti un po' uguali. Si riconosce la canzone ma non l'interprete invece se tu pensi che negli anni settanta la diversità di Mina, Fatti Bravo, Anna Oxa, Zanicchi, Vanoni cioè Berti erano tutte diverse non c'era una che assomigliava all'altra come adesso dicono chi è quella che assomiglia a te? La Risa ma nessuno di noi è uguale all'altro anzi bisogna puntare sull'essere diversi C'è sempre qualcosa che puoi avere una voce bella, pulita però non sei l'altra sei te stessa Certo Senti ma nella tua appunto carriera dove hai fatto di tutto c'è ancora una cosa che vuoi fare che non hai fatto? Guarda vorrei fare uno special ma lo vorrei fare a modo mio uno special televisivo Sì ma con tutti gli amici che ho cantato adesso no? Bello Fede, Sacchille, Rovazzi, Manuelito, Roseville e poi anche Baglioni perché il mio primo duetto l'ho fatto con Claudio Baglioni il nostro concerto ed era quella trasmissione innovativa che aveva fatto Fabio Fazio Anima Mia Anima Mia Anima Mia e quindi mi piacerebbe fare uno special così Ragazzi in ascolto Rai, Mediaset, Netflix Prime C'è di tutto Ragazzi Orietta è pronta col suo special per i travestimenti quindi è una roba da fare subito Sì, sì mi farei fare dei travestimenti ma anche partecipando a una trasmissione e travestirmi ogni volta Ma facciamolo Anche se sono in giuria Ma facciamolo ma scusa non ho capito cosa ce lo impedisce Perché a me piace essere così Adoro Orietta sei un patrimonio da salvaguardare Orietta noi facciamo un gioco alla fine di ogni puntata si chiama Sexy o Exit Allora tu devi scegliere una cosa che per te è sexy intesa come una cosa che ti attrae che ti piace che ti avvolge e invece Exit è una cosa che vuoi far uscire in generale dal mondo dalla tua vita e via dicendo quindi mi devi dire cosa per te è sexy e cosa per te è Exit Per me è sexy una scarpa con il tacco a spillo Bello Un vestito trasparente Sì Una camicia da notte che sembra un abito da sera Che tu collezioni tra l'altro Che io ho collezionato Esatto Adesso non si trovano più Ah eh Perché la gente le ragazze vanno o nude o col pigiama Non c'è più la via di mezzo Non c'è più la via di mezzo Non c'è più la via di mezzo L'abito da sera Si vede e basta E invece le cose che a me le discussioni inutili quando una persona vuole farti credere una cosa che tu stai in partenza che non è giusta per te che ti vuole convincere ecco queste cose a me disturbano preferisco cancellarle preferisco farle uscire Ok quindi tutta un po' la falsità i meccanismi Quando sai già all'inizio che è una cosa che va a favore loro e basta L'opportunismo Sì ti chiedono di farti un favore invece il favore è fatto per loro non per te Certo Queste cose mi disturbano perché prima di tutto ti offendono offendono la mia personalità e anche il mio modo di giudicare le persone ti offendono perché non sei una stupida poi sei una persona che hai lavorato in questo ambiente per tanti anni quindi le favole le hai già sentite risentite Vissute sentite risentite quindi non ci caschi più Sì questo mi disturba molto Certo ed è giusto quindi sempre essere sinceri e veri come sei tu Orietta per noi è stato un onore incredibile che tu hai speso un'ora con noi è passata velocemente esatto infatti sarei qua a parlare per ore ma tanto noi ci rifacciamo le nostre cene pranzi feste poi devi sempre venire a vedere la mia massarda che ho più di duemila a mettere altri abiti grazie mille Orietta sei un mito grazie per essere venuta qua grazie a tutti quelli che ci hanno guardato e sei veramente un patrimonio nazionale da proteggere e sono sicuro che avrai altrettanti anni di carriera davanti faremo grandi cose quindi dipendere dall'energia che mi rimane ne hai da vendere direi grazie a tutti ciao applausone 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 Grazie.